Vorrei vedere tutto questo da fuori, intendo dire proprio fuori della mia prigione, fuori di questa costruzione antica, di cui ricordo soltanto alcune immagini lontane perché raramente mi capitava di passare in questa zona quando ero un uomo libero. Ricordo soltanto il lungo muro di cinta che costeggia la strada e l'argine dall'altra parte della strada e oltre il fiume. Ricordo la parte più alta del palazzo che si intravedeva al di là del muro, le pietre rettangolari un po' grezie che lo compongono, la fila di finestre che sembrano quelle di un qualsiasi palazzo antico. Forse all'ultimo piano, quello che si intravede dalla strada, ci sono soltanto uffici, ma nessuno avrebbe mai detto che quelle fossero le finestre di una prigione. Ricordo il passeggio sul marciapiede, gli alberi, il traffico non particolarmente caotico in quella zona, direi forse persino una bella zona, per quanto una simile affermazione possa sembrare insieme strana, ironica, paradossale. Perché allora invece quel fuori non è più nelle mie possibilità? Non sono più in grado di giudicare e di descrivere, se non con il debole aiuto della mia memoria e dell'immaginazione forse. Certo tutto appare diverso da qui, pensando a quello spazio, a quelle pietre, a quelle finestre, a quella strada, a quel passeggio, a quel fiume. Da qui ora tutto quel fuori assume certo un altro aspetto. Non ricordo tutto della città, soltanto i luoghi che frequentavo, quelli che più amavo. I miei quartieri, i giardini, la scuola, i lunghi viali che mi piaceva percorrere nelle ore più solitarie, di notte, nei giorni di festa, quando gli altri si chiudono in casa. Fuori avevo una di quelle macchine che si usano adesso, coppie fedeli, almeno esteriormente, di certe vetture d'epoca. La mia erano a due cavalli, tutti dicevano che io la guidavo in modo piuttosto bizzarro e non ho mai compreso quel che volessero dire. Forse dipendeva dal fatto che usavano spazio già allora, in modo poco convenzionale, poco rispettoso della segnaletica orizzontale. Ogni volta che si trattava di fermarsi e parcheggiare, per esempio, e che non avevo il senso della misura, che usavo le corsie senza rispettare le proporzioni, le distanze dal bordo della carreggiata, la distanza dal centro, insomma, non guidavo bene, me lo facevano notare continuamente. Pochi si fidavano a viaggiare in macchina con me. Ma la cosa non mi preoccupava più che tanto, non ci facevo caso. Viaggiavo prevalentemente da solo, o con quei pochi coraggiosi che avevano la fiducia nel mio modo bizzarro di guidare. Giravo spesso la città con la mia macchina, immaginando di percorrere un mondo intero con un qualche mezzo infinitamente veloce. E la città mi appariva articolata, complessa, inesauribile, piena di svolte, di angoli oscuri, di punti sconosciuti. Della città ricordo bene i monumenti che sono stati costruiti negli ultimi anni. Ogni sovrano ha la sua statua, voi a cavallo, voi a piedi, voi in divisa, voi in gran tenuta da cerimonia, ognuno con le sue insegne e con i suoi simboli più o meno in evidenza. I fagiani e i piedi di Umberto Vittorio Umberto II, il volto di belle fanciulle decorato, per ironia d'artista forse, sulla blusa di Vittorio Umberto II, oppure uno sproporzionato Umberto Vittorio Umberto I, posto su di un piedistallo altissimo e via dicendo, uno spreco di bronzo, una inutile esibizione di virtù artistica e civica, una presunzione che la fama sopravviva nel tempo, che il tempo devasta, ma il tempo devasta ogni presunzione ed abbatte ogni fama. Fuori di qui mi piaceva incontrare gente, parlare, ridere, scherzare. Avevo molti amici, avevo tutta una vita e tutto un mondo di relazioni, una ragazza dolce e disponibile, Elena, anche una famiglia, una madre, un fratello, una sorella. È strano, ora, tutti questi rapporti mi sembrano infinitamente lontani, forse persino incomprensibili, incongruenti, come se a posteriori apparissero uno spiacevole equivoco. Scusi, ci siamo sbagliati, quegli amici, quella bella ragazza sono destinati ad altri, non a lei. È possibile. Eppure, quanti momenti intensi sono stati vissuti con gli amici, quante feste, quanti viaggi. E poi quante dolcezze, quanto amore ci siamo scambiati io ed Elena. O devo pensare che fingeva, o devo pensare che sbagliava, che credeva di stare con qualcun altro. No, questo davvero non posso crederlo. Non le ho mai nascosto nulla, non le ho mai tacciuto le mie fissazioni, le mie manie. Sapeva benissimo come ero fatto e come sono adesso. E se oggi siamo così lontani, così distanti, non è colpa sua, è meglio così per lei. Con quale coraggio, con quale egoismo potrei chiederle di aspettarmi, magari per tutta la vita. Insomma, è chiaro, chi entra qui come me, prigioniero, farà bene a cancellare il mondo di fuori e la vita e gli affetti. Si tenga ricordi, solo ricordi, non sentimenti. L'immenso edificio del ricordo è per fortuna così vasto da bastare a se stesso. Meglio cancellare invece i sentimenti vivi, le passioni. Tutto ciò che porterebbe è solo un infinito dolore, una sofferenza senza limite. Grazie a tutti.